2012 Qual è il significato di questo dato per voi e qual'è la connessione con la città di cristal? La connessione con la città di cristal, aprire il tuo cuore, riuscire a te stesso, riuscire a tutti i teori, e tutto ciò che ti dà un punto, ma se riuscire questo, sarai così puro e luce possibile per... non so se è in 2012, o se è in 2013, o se è un po' più più tardi, ma ci saranno, ma ci saranno, ma ci saranno, a tutti i bambini, a tutti i bambini, a tutti i bambini, che ci saranno, è un rischio, è come la madre madre ha la loro bambina, la loro bambina, le loro bambini, le loro bambini, prima la grande bambina. è quello che ho sentito, sono davvero riuscire, la nuova humanità, la nuova popolazione, la nuova terra, e... wow! solo per portare questo qui, manifesto qui, è un feasto ogni giorno, un feasto di amore, con compagno, con luce, 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 e... ... ...